ATTENZIONE! Allora, visto che l'ultima volta eravamo a Montorfano, per il conte Mont Arfano o Mont Albano, il Marchese di Montevecchia. Ce l'ha rimasto male perché non lo riprendevamo più. Diceva, ma non riprendi più. Adesso abbiamo deciso ovviamente di fare giretto, prima di tutto San Genesio. Andiamo a fare qualche secret. E poi abbiamo deciso di munirci non di una GoPro, non di una GoPro, ma ben due GoPro. Questa cosa nuova oggi. Mi mettete l'ansia. davanti e dietro. Allora eravamo. Carletto, Roby, professionismo, livello oltre. Poi il meccanico che ormai si è dato al blog pure lui. E attenzione, attenzione. Il pro del bar. No. . Grazie a tutti. Grazie. 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 Secret, secret. Buongiorno? Buongiorno. 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 Però l'albero io gli stavo... Che hai visto? Il tronco sai che non me l'aspettavo? Grazie, Davide. Grazie, Davide. Grazie, grazie. Grazie, Davide. Ancora? Sì. Guardi però come fanno. Buongiorno. Ando per quest'estate, Marco. Sì. Guardi gli epici. Guardi gli epici. Prepariamo anche le spalle. Paolo. Buongiorno. Buongiorno! No ciao ragazzi l'occhiale definitivo devo dire che questi due qua hanno lanciato ormai una fuga al fanatismo che il conto in banca a questo punto si prosciuga l'iscrizione al canale non vi costa nulla mettete un like alla prossima ciao iscrizione al canale è gratuita non costa niente mettete un like e ciao alla prossima al canale non vi costa nulla un like se vi piace il video se non l'avete capito è gratis è gratis è gratis alla prossima ciao